L'ultima lezione di teoria di questo corso, domani ci sarà soltanto una lezione di esercitazione a conclusione, riguarda i principali trattamenti a cui si è usi a soggettare le acque che dopo devono essere utilizzate per usi industriali. Per quanto riguarda le acque, il primo tipo di trattamento a cui devono essere assoggettate è la deposizione dei solidi e la separazione dei solidi che sono sospesi. In effetti tutte quante le acque naturali sono non solo delle soluzioni ma anche dei sistemi eterogenici perché tutte quante più o meno trascinano dei solidi sospesi. Dunque, la maniera più semplice di andare a separare i solidi sospesi è la sedimentazione, cioè se uno lascia stare l'acqua tranquilla, i solidi generalmente sono più pesanti del liquido e dell'acqua e vanno a fondo. La velocità con cui questi solidi sedimentano è regolata dalla regge di stock che è scritta qui. Vedete, v è la velocità di sedimentazione, g è l'accelerazione di gravità, r è il raggio delle particelle, d con 2 è la densità della particella solida, d con 1 è la densità dell'acqua, eta è la viscosità dell'acqua. Dunque, questo regge di conto del fatto che se le particelle sono molto piccole, la velocità di sedimentazione è estremamente lenta. Infatti, guardate qui, r è il raggio delle particelle, per cui se le particelle sono piccole il raggio al quadrato diventa un numero ancora più piccolo, di tal che la velocità di sedimentazione diventa ancora più piccola. Inoltre, guardate qui, per alcuni solidi la differenza di sospesi solido e liquido è veramente molto molto piccole. Se noi prendiamo, per esempio, il ferro colloidale, il ferro colloidale sono delle particelle praticamente di idrossido ferroso, idrossido ferrico che trattengono molte molecole d'acqua. La densità di queste particelle di ferro colloidale è veramente molto molto vicina a quella lì dell'acqua, così come pure delle particelle di argilla che vengono trascinare dalle acque. Le argille praticamente hanno la capacità di riempirsi d'acqua, di gonfiarsi con l'acqua, per cui dato che una particella di ferro colloidale, una particella di argilla sono composte anche da acqua, è chiaro che la differenza di densità sarà molto molto piccola. Pertanto, per le particelle più piccole di ferro colloidale e di argilla che sono sospesi nell'acqua, la velocità di sedimentazione è estremamente lenta e quindi questo può provocare dei problemi. Dunque, i dispositivi più semplici per la sedimentazione sono i sedimentatori orizzontali e i sedimentatori verticali. Sedimentatori orizzontali come sono fatti? Sono praticamente le grosse vasche delle sezioni rettangolate, vedete? Da questo lato qui praticamente, vedete qui la vasca è piena e qui praticamente arriva l'acqua che deve essere trattata. Qui vedete ci sta una canaletta di sfioro che l'acqua praticamente supera il bordo di quella vasca e finisce dalla canaletta di sfioro, stramazza nella canaletta di sfioro. Allora, guardate qui, supponete praticamente che qui ci sta una particella solida. Se noi andiamo praticamente a tracciare il vettore che mi dà la velocità di sedimentazione, che ad esempio è questa qui. E andiamo a tracciare praticamente il vettore che mi dà la velocità con cui praticamente questo liquido attraversa la vasca, attraversa orientozialmente la vasca. Quindi andiamo a comporre questi due vettori. Andando a fare la composizione di vettori, quindi andando a fare la somma vettoriale, esce praticamente un vettore di questo vettore. Come potete vedere, se voi andate a prolungare questo vettore andrà a impattare col fondo della vasca. Questo che significa? Significa che la particella si depositerà sul fondo della vasca e ce la ritroveremo qui. Se invece, guardate qui, la particella è molto molto piccola, per cui la velocità di sedimentazione è qualcosa del genere, molto molto piccola, andando a fare la composizione dei vettori, abbiamo un vettore velocità composto che andandolo a prolungare va a impattare contro la parete verticale della vasca. In questo caso qui che succederà? Succederà praticamente che una volta arrivata qui, questa particella risalirà e ce l'andremo a ritrovare da quest'altro lato qui. Diciamo che i sedimentatori orizzontali hanno il pregio della loro grande semplicità, ma se vogliamo andare a separare una congrua quantità di soldi, la velocità con cui quest'acqua deve attraversare la vasca deve essere veramente molto molto bassa e quindi con tempi di ritenzione molto lunghi. Comunque le particelle più grandi finiscono sempre per passare. Funzionano meglio i sedimentatori verticali. Vediamo come sono fatti i sedimentatori verticali. I sedimentatori verticali sono fatti in questa maniera, qui vedete. Questo è il pelo libero della vasca, qui ci sta praticamente la canaletta di sfioro che è superato, il bordo della vasca stramazza. Qui praticamente viene alimentata l'acqua l'alimentazione non va così. Qui ci sono praticamente delle paratie che vanno in questa maniera. Vedete? Allora praticamente l'alimentazione avviene tramite una tubazione che dal basso risale verso l'alto. Allora l'acqua praticamente deve uscire da qui, poi deve andare a scendere verso il basso, poi dovrà scendere verso il basso un'altra volta, poi scenderà verso il basso, scenderà verso il basso, scenderà verso il basso, poi finite praticamente le paratie, potrà ricominciare a salire verso l'alto, sale verso l'alto, sale verso l'alto e sale verso l'alto. In questa maniera praticamente arrivato qui l'acqua inverte la sua velocità per cui le particelle si fermano per un momento e in questo momento diciamo così le particelle dovrebbero poter avere la possibilità di andarsi a sedimentare sul fondo. Diciamo che in questa maniera i sedimentatori a flusso verticale funzionano meglio dei sedimentatori a flusso orizzontale, però sicuramente una certa quantità di particelle passano lo stesso. Diciamo che se si vuole un abbattimento più spinto dei soldi sospesi, diciamo che per le acque industriali, le acque industriali essenzialmente a cosa servono? Le acque industriali servono ovviamente all'alimentazione delle caldaie, le caldaie che poi servono a produrre il vapore che alimenta le turbine a vapore. Le turbine a vapore sono diciamo una apparecchiatura che nell'industria viene utilizzata spessissimo. dovunque diciamo così c'è bisogno di andare a trasformare dell'energia meccanica in energia elettrica, si produce praticamente del vapore acqueo, con il vapore acqueo si alimenta la turbina, il moto della turbina viene utilizzato per far muovere la dinamo e l'alternatore e così si produce l'energia elettrica. Quindi praticamente queste acque che vengono utilizzate per la produzione di questo vapore, per l'alimentazione di queste turbine, deve essere un'acqua dove i soldi sospesi praticamente non ci stanno, perché quale sarebbe il problema principale? Il problema principale è che si andrebbero a depositare all'interno delle caldaie, poiché noi dobbiamo evitare che all'interno delle caldaie si formino delle incrostazioni, o quantomeno dobbiamo cercare di fare sì che le incrostazioni siano il più lentamente possibile, perché quando si è depositato un congruo strato di incrostazioni sulle pareti interne delle caldaie, il risultato quale viene a essere? Il risultato viene a essere che per produrre la stessa quantità di vapore bisogna bruciare una quantità di combustibile superiore, quindi praticamente i costi di produzione aumentano. Ma non è soltanto questo il problema, il problema è che una caldaia dove si sono formate delle incrostazioni è una caldaia pericolosa, perché dato il fatto che ci sono differenti coefficienti di dilatazione termica per la parte metallica esterna della caldaia e per le incrostazioni, questi differenti coefficienti di dilatazione termica fa sì che ogni tanto dei pezzi di incrostazione saltino via. A questo punto l'acqua viene a contatto con la parte metallica rovente, evapora improvvisamente una grossissima quantità d'acqua e quindi si hanno una produzione incontrollata di vapore che può portare addirittura all'esposizione della caldaia. Allora praticamente bisogna fare sì che queste incrostazioni non si formano. Chiaramente la prima cosa che dà incrostazioni qual è? Sono i solidi sospesi, quindi la prima cosa da andare a togliere sono assolutamente i solidi sospesi. Pertanto se tramite questi due trattamenti qui il grado di eliminazione dei solidi sospesi non è sufficiente si utilizza un trattamento di coagulazione, cioè che cosa si fa? Praticamente si aggiunge un'elettrolita all'acqua, la funzione di questo elettrolita qual è? E' quello lì praticamente di passare in soluzione, passando in soluzione con la carica degli iuni di cui è composto va a neutralizzare la carica elettrica che spesso hanno le particelle colloidali. Diciamo, queste particelle colloidali che hanno dimensioni molto molto piccole non si riescono a ingrandire spesso perché? Perché queste particelle colloidali sono tutte quante caricate elettricamente negativamente quindi si respingono fra di loro e non riescono a formare delle particelle più grosse. Pertanto tramite la dissoluzione di questo coagulante, che è praticamente tutto, solitamente si usa o il solfato di alluminio AL2SO4, o il solfato di ferro, sempre ferro 3, F2SO4, noi abbiamo che già il passaggio in soluzione di questo elettrolita neutralizza la carica elettrica negativa di cui sono caricate molte delle particelle colloidali e favorisce il processo di aggregazione di tante piccole particelle colloidali in alcune particelle colloidali più grosse che si diventano più facili. Quando poi vedete l'aggiunta di questo elettrolita all'acqua fa sì che l'elettrolita reagisca con la durezza temporanea dell'acqua cadono verso il basso e cadendo verso il basso spazzano via tutte quante le particelle di solido sospeso che trovano sul loro occhio. Diciamo che c'è anche un altro effetto benefico che fa eliminare anche una parte di anidride carbonica che resta diciamo così disciolta nell'acqua, se gli si lascia un pochettino di tempo la liride carbonica poi si libera anche nell'atmosfera. Diciamo se l'eliminazione delle particelle disciolte deve essere ancora più spinta allora l'unica possibilità che si può utilizzare quella lì dei filtri, questi filtri come sono fatti? I filtri praticamente sono dei cilindri, vedete? Dei cilindri che hanno praticamente un'altezza più o meno uguale a quella lì del diametro e sulla parte bassa del cilindro è sistemata una rete metallica, su questa rete metallica è sistemata nella ghiaia, ovviamente nella ghiaia che ha una pezzatura più grossa delle aperture della rete perché sennò la ghiaia passa attraverso praticamente della rete. Dunque ci sta questo strato di ghiaia, di sopra di questo strato di ghiaia si va a sistemare della sabbia silicea e si ha una certa altezza di sabbia silicea. Adesso praticamente l'acqua che viene caricata dall'alto deve passare attraverso gli spazi vuoti di questa sabbia silicea e le particelle più grosse si vanno a fermare praticamente, vengono fermate da questo letto di sabbia silicea. Ovviamente le prime particelle di soli sospesi che si fermano tra gli spazi vuoti della sabbia silicea che viene utilizzata come letto filtrante fanno ulteriormente, diciamo, diminuire la dimensione di questi spazi vuoti e permettono a particelle ancora più piccole di essere fermate. Diciamo che questi filtri non è che funzionano all'infinito perché poi questa azione di intasamento dei soli sospesi va mano a mano aumentando, per cui il risultato qual è? Il risultato è che la portata di acqua trattata va mano a mano diminuendo quando è diminuita troppo il filtro deve essere praticamente rigenerato e come viene rigenerato? viene rigenerato mandando una piccola quantità di acqua dal basso rimuovendo, diciamo così, tutto quanto in letto e i soli sospesi che sono più leggeri della sabbia silicea che viene utilizzata per filtrare l'acqua diciamo così, questi soli sospesi vengono trascinati verso l'auto basta poi aspirare via quest'acqua, questa è un'acqua, diciamo, più che un'acqua sarà un fango tipo questo qui che contiene tutti quanti questi solidi sospesi e così, che vi posso dire, tutti quanti i solidi sospesi che stavano in mille metri cubi di acqua alla fine vengono raccolti, che vi posso dire, in mezzo metro cubo d'acqua e in questa maniera, diciamo, si fa poi elaborare quell'acqua proprio alla volta e tutti questi soli sospesi vengono praticamente rigenerati questi filtri ne esistono di due tipi, i filtri lenti e i filtri rapidi i filtri lenti, praticamente, lo dice la stessa parola il passaggio dell'acqua attraverso il materiale filtrante avviene piuttosto lentamente perché, diciamo, la forza spingente al passaggio dell'acqua attraverso il letto filtrante è semplicemente la forza di gravità ovviamente, diciamo così, più alto è il battente di acqua che sta al di sopra del letto filtrante più alta sarà la velocità di passaggio attraverso il letto di materiale filtrante chiaramente, diciamo così, questi cassoni, questi tipi di filtri lenti che operano la pressione atmosferica possono essere dei cassoni aperti diciamo, non c'è nessuna esigenza di chiuderli perché, anzi, stendoli aperti le operazioni di manutenzione sono più semplici invece ci sono i filtri veloci i filtri veloci, come dice la parola stessa operano, diciamo, con una velocità di passaggio dell'acqua attraverso il letto filtrante molto più elevata e si riesce a ottenere questa velocità di passaggio attraverso il letto filtrante molto più elevata facendo avvenire, diciamo così, facendo passare l'acqua attraverso il letto filtrante sotto l'azione di una pressione superiore cioè non è solo il battente di liquido è anche il fatto che il cassone, diciamo così, è completamente chiuso all'interno del cassone regna una pressione maggiore della pressione atmosferica e quindi la forza spingente al passaggio dell'acqua attraverso il letto filtrante non è solo il battente di liquido è anche la pressione che regna all'interno del cassone ovviamente, diciamo così, il vantaggio qual è? il vantaggio è che la produzione, la portata oraria di acqua che viene prodotta è sicuramente più elevata nel filtro veloce piuttosto che nel filtro lento lo svantaggio è che il filtro veloce si intasa più rapidamente nel filtro lento chiaro? perché chiaramente operando sotto pressione il letto tende anche a compattarsi allora compattandosi di più il letto aumentano le perdite di carico aumentando le perdite di carico idraulico, diciamo così, la portata andrà diminuendo si potrebbe ovviare a questo inconveniente innalzando la pressione a cui avviene il passaggio dell'acqua ma innalzando la pressione a cui avviene il passaggio dell'acqua il letto si compatta ancora come che sia, diciamo, quando la portata d'acqua è fluente va diminuendo e la diminuzione è diventata troppo parcata a quel punto lì bisogna fermare il filtro, bisogna andarlo a rigenerare rigenerare che cosa si fa? si manda sempre l'acqua dal basso e praticamente andando a mandare l'acqua dal basso il letto si scompatta, diciamo, la parte di acqua che fluendo dal basso va verso l'alto trascina con sé gran parte, diciamo così, dei soldi sospesi che sono stati bloccati dal letto filtrante si aspira via quest'acqua e poi quest'acqua, diciamo così, ripeto, in un metro cubo in mezzo metro cubo di quest'acqua troviamo tutti quanti i soldi sospesi che ci stavano in migliaia di metri cubi d'acqua che noi siamo andati a trattare precedentemente diciamo in questa maniera con l'operazione di filtrazione abbiamo che, diciamo, i soldi sospesi ragionevolmente possono essere eliminati dalle acque adesso però è necessaria anche una, diciamo, o drastica diminuzione o totale rinvozione anche dei solidi che sono disciolti nelle acque se vogliamo dare, diciamo, qualche dato indicativo possiamo dire che per le caldaie che operano a pressione fino a 15 atmosfere è necessario rimuovere dalle acque i sali che danno durezza diciamo che per queste caldaie che operano a pressione fino a 15 atmosfere è permessa una durezza massima dell'acqua di circa un grado francese gli altri solidi sospesi che non danno durezza, quindi che vi posso dire gli ioni sodio, gli ioni potassio, che vi ho detto praticamente tutti quanti i sali di sodio e i sali di potassio sono tutti quanti dei sali molto molto solubili per cui praticamente non precipitano cioè la solubilità dei sali di sodio e dei sali di potassio è qualcosa come due o trecento grammi per litro, quindi prima che precipitano quelli quindi, ripeto, per le caldaie operanti a bassa pressione per bassa pressione intendo pressioni fino a 15 atmosfere si devono eliminare soltanto i sali che danno durezza anzi un pochino pochino di durezza fino a un grado francese è addirittura permessa e diciamo i sali invece che non danno durezza ce li possiamo pure tenere invece quando si deve operare in caldaie che operano ad alta pressione che con alta pressione intendo superiori a 15 atmosfere si può arrivare anche a 100, 150, 200 atmosfere è necessario andare a rimuovere tutti quanti i sali sospesi allora, a seconda praticamente del caso si possono utilizzare dei trattamenti che rimuovono soltanto la durezza delle acque oppure si possono andare a mettere in opera dei trattamenti che rimuovono tutti quanti i soliti che sono sospesi nelle acque allora, vediamo un po' con i due casi se è necessario andare a rimuovere soltanto i sali che danno durezza basta diciamo così un semplice trattamento chimico che va sotto il nome di metodo della calce soda che adesso mi mostro praticamente dunque la calce è il nome d'uso praticamente dell'iterossido di calcio che ha formula CaOH preso due volte mentre invece la soda è il nome d'uso del carbonato di sodio che ha formula Na2-13 quindi ripeto ancora una volta se è necessario eliminare tutti quanti i sali che danno durezza e diciamo senza un abbattimento della durezza molto molto spinto cioè se è necessario arrivare a una durezza di circa un grado francese il metodo della calce soda va bene che è molto semplice perché? perché praticamente consta semplicemente nell'aggiunta alle acqua di una congrua quantità di calce e di soda nella lezione di esercitazione che farete domani farete proprio un calcolo diciamo così un esempio di calcolo della quantità di calce e quantità di soda che è necessaria per abbattere la durezza temporanea e permanente di un'acqua che ha certe particolari caratteristiche di durezza allora se noi andiamo a sciogliere diciamo così ad aggiungere questi due sali in un'acqua che cosa succede? perché questi due sali ovviamente passano in soluzione l'idrossido di calcio passa in soluzione sotto forma di unione Ca2 più attuoso più 2H- il carbonato di sodio passa in soluzione sotto forma di unione Ca2 più attuoso più di un CO3 meno 2H- ovviamente quando passa in soluzione la calce la prima cosa che fa qual è? causa la precipitazione del magnesio sotto forma di idrossido di magnesio secondo la seguente reazione Mg2 più 2H- a corso precipita sotto forma di Mg OH- quindi causa immediatamente la precipitazione del nitrossido di magnesio eliminiamo il magnesio però è come se sostituissimo il magnesio col calcio perché praticamente il calcio comunque resta in soluzione per quanto riguarda il calcio per quanto riguarda la durezza temporanea legata al calcio che cosa succede? questo ione ossidrile va diciamo così a turbare gli equilibri carbonatici delle acque in particolare l'ione OH- a corso reagisce con l'ione idrogeno carbonato a cui è ascrivibile la durezza temporanea dell'acqua l'ione OH- strappa praticamente un protone all'ione idrogeno carbonato e si trasforma in H2O ovviamente diciamo così l'ione idrogeno carbonato si trasforma in con l'ione CO3 preso due volte attuoso a questo punto qui vedete avendo aggiunto una certa quantità di ioni OH- questo equilibrio risulterà decisamente spostato verso l'estero quindi la concentrazione degli ioni CO3-2 aumenterà molto a questo punto vedete che gli ioni calcio sia quelli che erano originariamente presenti nell'acqua sia quelli che abbiamo aggiunto diciamo così con l'aggiunta della calce all'acqua precipitano con gli ioni CO3-2 sotto forma di carbonato di calcio va bene adesso noi abbiamo anche che diciamo tramite l'aggiunta della calcio noi ci siamo liberati della durezza magnesiaca e della durezza calcica temporanea la durezza invece calcica permanente viene eliminata per effetto della soda perché vedete il calcio che è presente in soluzione che diciamo è in concentrazione superiore alla concentrazione degli ioni HCO3- ovviamente quando tutti quanti gli HCO3- si sono trasformati in CO3-2 e è precipitato tutto quanto questo CaCO3 rimarranno ancora in soluzione degli ioni Ca2- quegli ioni Ca2- precipiteranno per effetto della presenza degli ioni CO3-1 derivanti dalla dissoluzione della soda e quindi abbiamo anche la precipitazione della durezza permanente poi praticamente noi abbiamo anche che l'aggiunta diciamo così di questo ione qui OH- permette diciamo appunto di spostare tutti quanti questi equilibri è di fare sì che precipiti il carbonato di calcio e precipiti il carbonato di calcio questo è un metodo molto molto semplice è un metodo conosciuto diciamo da molti molti anni ha il difetto però che l'abbattimento della durezza diciamo non è proprio molto molto spinto e ripeto un'acqua che sia stata trattata con il metodo della calcio e soda conserva una durezza diciamo residua ancora pari a circa un grado francese e comunque conserva tutti quanti anche gli altri solidi sospesi gli altri solidi disciolti cioè praticamente tutti quanti i sali tipo i sali di sodio i sali di potassio che non hanno durezza non vengono appartuti vi ripeto questo è accettabile nel caso in cui noi abbiamo che l'acqua che noi dobbiamo utilizzare serve per l'alimentazione di caldaie operanti a bassa pressione fino a 15 atmosfere se invece abbiamo un'acqua che serve per l'alimentazione di caldaie operanti a pressione più alta superiore ai 15 atmosferi alle 15 atmosfere praticamente noi abbiamo che è necessario diciamo un metodo diverso di rimozione di separazione delle sostanze di sciolte questo metodo diciamo così si chiama scambio ionico e praticamente devo cancellare lo scambio ionico questo scambio ionico fa utilizzo di materiali chiamate resine scambiatrici adesso vi mostro come si ottengono queste resine scambiatrici con la domanda staggianti con la domanda questa domanda è un'acqua che si chiama è un'acqua che si chiama so ciò è prima Allora le resine scambiatrici a vederle praticamente sono delle palline di plastica di colore giallino brunastro palline di plastica della dimensione di 2-3 mm qualche cosa del genere e sono praticamente, diciamo sì, effettivamente costituite da un supporto di materiale polimerico generalmente a base di polistirene, cioè lo stirene è un microcarburo che è fatto così, vedete? Qui c'è un doppio legame e qui ci sta un anello benzenico sarebbe praticamente un anello a 6 atomi di carbonio quando questo va a polimerizzare, vedete, due di queste molecole qui formano praticamente si apre il doppio legame e abbiamo due spezzoni di molecola rosica questi due spezzoni di molecola si usiscono fra di loro e formano un accendio di catena polimerica ovviamente se io invece di scriverlo per due molecole soltanto lo scrivo per n molecole ho una catena lunga e ne volte diciamo che si mette a polimerizzare un 90% di stirene e un 10% di di milbenzene il di milbenzene, vedete, è fatto così l'aggiunta di questo divinilbenzene a che serve? quindi 90% di questo e il 10% di questo serve per creare dei legami primari trasversali fra catena e catena in modo praticamente che la struttura è più rigida perché se praticamente noi facessimo polimerizzare soltanto questo le molecole d'acqua si infilerebbero fra catena e catena e praticamente il granello si gonfierebbe e questo creerebbe dei problemi perché noi poi questi granelli li dobbiamo mettere in un letto li dobbiamo andare a mettere in una colonna se questo granello non ha stabilità dimensionale io prima ho un granello che è 2 mm si gonfia d'acqua e diventa 4 mm chiaramente questo mi farebbe salire tutto quanto il letto attraverso la colonna non mi creerebbe dei problemi diciamo questo supporto di polistirene non ha, diciamo così, proprietà di scambio iotico ma se io lo faccio reagire con dell'acido solforico cioè questa roba qui, vedete? la faccio reagire con acido solforico io vedo praticamente che cosa ho ho che l'acido solforico reagisce con 2 anelli benzenici e lascio solforico, si va a sistemare qui, vedete? adesso questo gruppo qui, vedete? che si è sistemato su un anello benzenico funziona proprio con una vera e propria molecola di acido solforico cioè in poche parole che cosa fa? una volta che viene messo a contatto una resina si è fatta con l'acqua si spezza questo legame qui questo H più viene cellulato con l'acqua e a saturare la carica negativa elettrica la carica elettrica negativa che si localizza su questo atomo di ossigeno contribuisce un catione che è presente nell'acqua cioè se io praticamente chiamo tutto diciamo così questa resina R vedete? tutto questo pezzo qui R, vedete? lo chiamo indico con R qui che cosa ci rimane soltanto? ci rimane soltanto H quindi la reazione che si viene nella pratica a verificare è RH più NA più che per esempio è disciolto nell'acqua reagisce, si mette in equilibrio con RNA più HP cioè RH si trova allo stato solido NA più si trova allo stato affuso RNA si trova allo stato solido RNA si trova allo stato solido RNA si trova allo stato affuso cioè l'effetto praticamente di questa reazione chimica è stata praticamente che originariamente il sodio stava nell'acqua e l'H più stava nella resina alla fine della reazione noi abbiamo il sodio è finito nella resina e l'H più è finito nell'acqua se ad esempio devi andare a sostituire un catione bivalente nell'acqua tipo il calcio diciamo dobbiamo semplicemente andare a correggere la stereometria della reazione ma il risultato è esattamente lo stesso possiamo andare a mettere un 2RH più CA2 più qui abbiamo R2CA più 2H più va bene? anche qui solido anche qui apposso anche qui solido e anche qui apposso bene adesso un ragionamento del genere si può fare anche per le resine anioniche diciamo non vi sto a spiegare i passaggi tramite i quali diciamo si introduce il gruppo che ha proprietà di scambio anionico nella resina il risultato qual è? è lo stesso cioè in poche parole si ottiene una catena polimerica più o meno di questo tipo qui e alla fine praticamente di questa catena polimerica ci sta legato un ioneossidrile ioneossidrile che può essere scambiato con gli anioni che sono presenti sull'ossido quindi la reazione che si verifica per lo scambio anionico è a correggere la stegiometrica dello scambio anionico cioè ROH più SO4 2- che si mette in equilibrio con R2SO4 più 2OH- che si mette in equilibrio con R2SO4 praticamente quando questa resina questa acqua passa attraverso un letto di resina di scambio cationico diciamo che tutti quanti i cationi vengono sostituiti da gli anioni quindi l'acqua diventa acida quando poi questa stessa acqua viene fatta passare attraverso un letto di resina anionica tutti quanti gli anioni vengono sostituiti praticamente da dagli ioni ossidori poi gli ioni HP e gli ioni ossidori reagiscono fra di loro e si formano praticamente dall'altra acqua quindi in questa maniera si ha un processo di demineralizzazione completa delle acque ci sono ancora diverse cosette da dire riguardo al processo dello scambio di olio cerchiamo di dirne qualcuna in modo da fare una lezione un pochino più concreta la prima cosa è che sia le resine cationiche sia le resine cationiche si dividono in resine cationiche forti e deboli e in resine anioniche forti e deboli dunque cominciamo dalle resine cationiche tenete presente praticamente la differenza tra un acido forte e un acido debole che abbiamo fatto quando abbiamo parlato di chimica un acido forte è un acido che è completamente dissociato in cui la reazione di dissociazione va a completamento e un acido debole invece non è completamente dissociato è dissociato soltanto parzialmente la reazione di dissociazione è una reazione d'equilibrio e la reazione di dissociazione è tanto più spostata verso destra quanto più alta è la costante inoltre abbiamo anche sempre detto che se l'acido è forte la sua base coniugata è debole quindi non è in grado di trattenere di tenere legato a sé il suo protone e quindi lo cede alla base acqua invece se un acido è debole la sua base coniugata è forte quindi cede diciamo così con una certa difficoltà il suo protone a una base debole come è l'acqua che è presente sull'uso ecco la differenza fra una resina cationica forte e una resina cationica debole è la stessa differenza che ci sta praticamente fra un acido forte e un acido debole una resina cationica forte è come se fosse un acido forte cioè in poche parole è completamente dissociata appena la si mette a contatto con l'acqua cede tutti quanti gli ioni positivi e si prende tutti quanti gli ioni negativi e tutti quanti gli ioni positivi presenti in soluzione cioè la reazione di scambio è totale una resina cationica debole invece praticamente essendo un acido debole non riesce a prendersi tutti quanti gli ioni che sono presenti nelle acque perché? perché praticamente a mano a mano che sottrae cationi all'acqua e cede ioni H più all'acqua l'acqua diventa più acida ovviamente la dissociazione di un acido debole è tanto più difficoltosa quanto più acida è l'acqua stessa quindi praticamente possiamo dire che una resina cationica forte funziona bene qualunque sia il pH dell'acqua sia che è basico sia che è neutro sia che è acido invece una resina cationica debole funziona bene soltanto quando il pH dell'acqua è basico oppure è neutro in effetti le resine cationiche deboli vengono ottenute facendo polimerizzare l'acido acrilico l'acido acrilico tiene questa formula vedete? CH2 doppio legame CH COOH questo COOH non ve lo ricordate non tiene una faccia conosciuta in effetti come esempio di acido debole sicuramente vi sarà mostrato qualche volta il CH3 COOH che sarebbe l'acido acetico cioè in poche parole questo gruppo qui il carbossido è chiamato ha proprietà acide ma è un acido debole se si fa polimerizzare l'acido acrilico praticamente quello che si ottiene che cos'è? che una catena polimerica si infatta adesso tutti questi gruppi tutti i gruppi carbossilici sono tutti quanti degli acidi deboli quindi sono capaci di cedere praticamente questo ione H+, qui purché il pH dell'acqua sia basico o sia neutro se l'acqua è già acida cioè contineggiate gli ioni H+, non riuscirà a cedere altri ioni H+, bene ragionamento assolutamente analogo si può fare per le resine anioniche le resine anioniche sono delle basi forti cioè cedono diciamo così lo ione H- qualunque sia il pH dell'acqua invece praticamente le resine anioniche deboli funzionano solamente se il pH è acido oppure neutro direte voi ma scusa mi sembra un pochettino strano questo fatto qua se praticamente io ho delle resine anioniche forti che funzionano bene in qualunque caso poi ho le resine anioniche deboli che funzionano bene solo se l'ambiente è basico oppure è neutro se è acido non funzionano più allora tu perché mi vieni a proporre queste resine anioniche deboli quando ci sono quelle là forti che funzionano sempre bene è una questione di costi non è una questione di costi i costi della resina cationica forte della resina cationica deboli così come pure i costi della resina anionica forte della resina anionica sono più o meno gli stessi il fatto è un altro il fatto è che praticamente questi materiali una volta che sono stati utilizzati per demineralizzare l'acqua praticamente dopo devono essere rigenerati devono essere recuperati dunque per prima cosa diciamo che questo trattamento di scambio ionico viene utilizzato solamente per le acque dolci cioè per acque che hanno al massimo contenuti salini di 1,2,3 grammi litro se il contenuto salino è superiore che ha un'acqua salmastra o un'acqua di mare lo scambio ionico non va bene chiaro? allora dicevamo poi che queste resine dopo che praticamente sono state utilizzate devono essere rigenerate perché? guardiamo un pochettino come avviene il processo ecco queste resine trovano alloggiamento in delle colonne queste colonne cosa sono? sono dei recipienti cilindrici i soliti recipienti cilindrici che abbiamo descritto anche prima che hanno un'altezza poco superiore a quella lì del diametro come al solito sulla parte bassa di queste colonne sono sistemate delle reti metalliche poi qui ci sta praticamente una gliaia che è a granulometria mano mano defraggente che si va verso l'alto e poi si sistemano queste palline praticamente di plastica di 2-3 millimetri supponiamo che questa è una resina cationica diciamo forte l'acqua viene fatta piovere da un alto sotto l'azione praticamente della gravità passa attraverso questo letto e esce da questa altra parte qui supponiamo che questa è una resina cationica forte noi che cosa abbiamo? abbiamo praticamente vedete che si è verificata questa reazione qui per cui praticamente tutti quanti i cationi che escono alla fine sono diciamo tutti quanti rimasti all'interno della colonna e praticamente qui esce soltanto acqua con ioni HP che hanno sostituito diciamo tutti quanti i cationi che sono presenti sulla colonna ma questa colonna può funzionare ad infinito? ovviamente no perché? perché praticamente queste palline ognuna di queste palline avrà un certo numero di siti dove ci stanno questi ioni HP ogni ione HP che viene ceduto viene sostituito da uno ione NA oppure che vi posso dire due ioni HP vengono sostituiti da uno ione CA++ ma poi poco alla volta vengono sostituiti tutti quanti gli ioni HP che sono presenti diciamo nella nella colonna stessa quando più o meno gran parte di questi ioni o tutti quanti questi ioni HP sono stati sostituiti che cosa succede? succede praticamente che la resina ha esaurito la sua capacità di scambio e questi cationi vedete NA++ CA++ cominciano a uscire dall'altro lato della colonna dunque la capacità di scambio è una grandezza che viene generalmente misurata capacità di scambio si indica generalmente con C in milliequivalenti per litro per mil per grammo scusate l'equivalente che sarebbe dunque milliequivalenti vuol dire praticamente un millesimo dunque l'equivalente è lo stesso della mole soltanto praticamente che cosa significa? se praticamente quel catione ha valenza 1 equivalente e mole sono la stessa cosa se quel catione ha valenza 2 un equivalente di praticamente una mole di ioni corrispondono a 0,5 equivalenti di quel catione perché quel catione avendo una carica 2 0,5 per 2 fa 1 cioè il numero delle cariche resta lo stesso se quel catione ha valenza più 3 un equivalente corrisponde praticamente a un terzo di mole cioè in poche parole il numero delle cariche deve restare sempre lo stesso la capacità di escambio si esprime in milliequivalenti per grammo e non in millimoli per grammo perché essendo diciamo così gli ioni che sono presenti in un'acqua monovalenti bivalenti trivalenti noi non sappiamo quanti di uno quanto dell'altro ce ne stanno la capacità di scambio si riferisce soltanto al numero di siti di ioni H+, che sono presenti praticamente in una resina per cui noi ci dobbiamo rendere indipendenti dalla valenza dei catione e ci possiamo andare a rendere indipendenti dalla valenza dei catione andando a inventare questo concetto di equivalente ripeto l'equivalente è uguale alle moli se la valenza è 1 è la metà delle moli se la valenza è 2 è un terzo delle moli se la valenza è 3 e un quarto delle moli se la valenza è 4 in poche parole diciamo questa è una definizione un poco diciamo così non proprio precisa di equivalente se vi volessi dare quella precisa di equivalente sarebbe molto più complicato allora mi accontento di darvene una lievemente più imprecisa ma che si capisce immediatamente allora una volta che la resina ha esaurito la sua capacità di scambio cosa succede? succede che da qui cominciano a uscire questi cationi allora questa resina praticamente è esaurita la resina quando è esaurita non viene buttata via perché praticamente è un materiale che comunque ha un suo certo costo e quindi se noi per andare diciamo a demineralizzare un'acqua dovessimo ogni volta andare a buttare tutto quanto le resine quest'acqua demineralizzata ci costerebbe un sacco di soldi inoltre essendo questa una materia plastica questa darebbe anche problemi di smaltimento cioè dovremmo andarla a buttare in una discarica e quindi costerebbe anche il suo smaltimento invece l'acqua viene rigenerata rigenerata che cosa? la resina viene rigenerata che significa rigenerare la resina? guardate un pochettino qui non è un caso che io queste reazioni le abbia scritte con la doppia freccia cioè la doppia freccia che cosa significa? significa che questa è una reazione d'equilibrio una reazione d'equilibrio può andare da sinistra a destra o da destra a sinistra a seconda delle condizioni in cui ci troviamo nella fase di esercizio del processo cioè nella fase in cui noi vogliamo andare a liberare un'acqua dagli ioni che sono presenti in essa abbiamo quella reazione procede da sinistra a destra perché? perché la resina è in forma idrogenionica cioè gli ioni idrogeni sono all'interno della resina l'acqua è molto più ricca in ioni Na+, Ca2+, K+, Mg2+, e gli altri ioni che sono presenti nelle acque che in ioni H+, cioè un'acqua naturale ha un diciamo un pH compreso tra 5 e 9 quindi vuol dire che la concentrazione degli ioni idrogeno è compresa tra 1 per 10 a meno 5 e 1 per 10 a meno 8 9 è un po' esagerato 8 scusate quindi praticamente abbiamo praticamente che la concentrazione degli ioni idrogeno è molto molto più bassa della concentrazione delle altre specie presenti in sull'uso quindi in fase di esercizio questa diciamo tutti quanti gli ioni H+, sono presenti nella resina questa concentrazione qui è alta questa concentrazione qui è bassa e la reazione in questo senso quando io voglio rigenerare la resina che cosa faccio? praticamente la resina oramai si è esaurita quindi tutte quante queste pauline qui invece di contenere ioni H+, contengono ioni Na+, ioni Ca+, ioni K+, ioni Mg+, a questo punto io faccio passare una soluzione acquosa concentrata di acido cronitrico e io faccio avvenire questa reazione nel senso contrario cioè nella soluzione concentrata di acido cronitrico la concentrazione di ioni H+, è molto elevata e la concentrazione di ioni Na+, Ca2+, Mg2+, è molto bassa diciamo che solitamente viene utilizzato quello che viene chiamato acido muriatico l'acido muriatico praticamente è l'acido cronitrico commerciale che viene utilizzato per la pulizia in casa dei water essenzialmente l'acido muriatico è una soluzione al 37% in peso di acido cronitrico in acqua se voi andate a vedere il peso molecolare dell'acido cronitrico è proprio 36,5 quindi più o meno è una soluzione 1 molare H+, diciamo che in questo acido la concentrazione di questo qui è H+, la concentrazione di ioni presenti in soluzioni sarà tutt'al più qualche milligrammo litro quindi questa è molto più alta di questa la resina sta in questa forma quindi le reazioni procedono in questo senso qui chiaro? naturalmente noi che cosa abbiamo? dobbiamo avere che se questo letto praticamente è capace di trattare che ne so mille metri cubi di acqua dopo io la rigenerazione la devo effettuare con uno due metri cubi di acido cronitrico è chiaro cioè il rendimento dell'operazione di scambio ionico affinché l'operazione di scambio ionico sia diciamo così proficua deve essere circa di mille di cinquecento cioè con il rendimento dell'operazione di scambio ionico quello che intendo intendo il rapporto del volume di acqua trattata in fase di esercizio fratto il volume di rigenerante usato diciamo che affinché sia proficuo il rendimento di un'operazione di scambio ionico deve essere come minimo superiore a cento ma deve essere diciamo così più prossimo a mille che a cento quindi deve essere cinquecento seicento settecento e così via va bene adesso diciamo così l'operazione di rigenerazione delle resine è prevista anche per le resine anioniche l'unica cosa che per andare a rigenerare le resine anioniche come soluzione rigenerante si utilizza una soluzione acquosa o di idrossido di sodio NaOH che praticamente il processo è assolutamente lo stesso quando la resina è esaurita l'ionio H- sono molto concentrati anche più di cronovari e praticamente fanno andare queste reazioni da destra verso sinistra a questo punto vi posso anche spiegare diciamo così il motivo per il quale le resine cationiche deboli così come pure le resine anioniche deboli presentano qualche vantaggio diciamo così rispetto alle resine cationiche forti alle resine anioniche forti dunque fino adesso ci era sembrato praticamente che le resine cationiche forti avevano soltanto vantaggio rispetto alle resine cationiche deboli perché abbiamo detto le resine cationiche forti funzionano in tutti quanti gli ambienti acido basico neutro le resine cationiche deboli funzionano soltanto quando l'ambiente è basico oppure neutro il rovescio della medaglia qual è? è che se praticamente seguitemi bene la resina cationica forte funziona meglio in fase di esercizio perché? perché praticamente cede con molta facilità gli ioni H+, e cede praticamente con molta facilità gli ioni H+, perché praticamente tutti i suoi siti acidi sono derivati da degli acidi forti quale per esempio è l'acido solfone bene adesso se noi abbiamo invece una resina cationica debole questa cede facilmente il suo ione H+, soltanto se l'ambiente è basico è neutro perché? perché praticamente tutti i suoi siti acidi sono derivati praticamente da un acido debole bene però in fase di rigenerazione se un acido una resina cede con facilità il suo ione H+, tanto più facilmente lo cede in fase di esercizio con tanta più difficoltà se lo riprende in fase di esercizio in fase di rigenerazione è chiaro cioè se lo cede molto facilmente o se lo riprende con difficoltà invece la resina cationica debole lo cede con difficoltà in fase di esercizio ma se lo riprende molto facilmente in fase di rigenerazione e il risultato quale viene a essere? il risultato viene a essere che per avere la stessa percentuale di rigenerazione della resina io ho bisogno di un volume di rigenerante più basso per la resina cationica debole piuttosto che per la resina cationica forte cioè in poche parole se io per esempio tratto mille litri diciamo di acqua in fase di esercizio se io devo andare a rigenerare una resina cationica forte ho bisogno ad esempio di cinque litri di rigenerante quindi rendimento mille diviso cinque duecento se io invece tratto diciamo così uso una quantità di resina che mi permette di trattare mille litri di acqua con una resina cationica debole io dico l'uve di rigenerante invece di cinque litri ho bisogno di un solo litro quindi il rendimento dell'operazione di scambio ionico invece di essere mille diviso cinque duecento è mille diviso uno è mille e quindi il rendimento è cinque volte tanto cioè io che cosa significa? significa praticamente che tutti quanti i sali che erano disciolti in mille litri di acqua io invece di raccoglierli in cinque litri di acido cloridrico li raccolgo soltanto in due litri di acido cloridrico io poi diciamo così li posso andare a recuperare da quell'acido molto più facilmente se la sua concentrazione è più elevata quindi diciamo così che questo ci permette anche di capire quali sono i vantaggi che le resine deboli presentano rispetto alle resine forti cioè le resine forti funzionano meglio in fase di esercizio le resine deboli hanno una pregenerazione che è facile adesso se vogliamo un pochettino andare a vedere come sono fatti gli impianti gli scandi riori qua l'impianto più semplice come è il salad se vogliamo andare a vedere come sono fatti gli impianti di scambio l'impianto più semplice com'è il fatto? L'impianto più semplice è costituito da una resina cationica forte e una resina anionica forte. Da qua vedete tutti quanti i cationi sono stati sostituiti da ioni H+, quindi qui entra un'acqua acida, qui praticamente vengono sostituiti tutti quanti gli adioni, H+, e H-, reagiscono fra di loro e qui esce l'acqua demineralizzata. Poi quando si sono esaurite le due resine bisogna andare a effettuare questa operazione di rigenerazione. La resina cationica forte viene rigenerata con l'acido cloridico concentrato, la resina anionica forte viene rigenerata con l'idrossido di sodio, con la soluzione di idrossido di sodio concentrato. Vedete poi si fa sempre un poco fluire un poco di acqua dal basso perché per scompattare il letto e quindi per diminuire le perdite di carico, poi vedete una colonna di scambio ionico vi elimina anche un pochettino i soliti sospesi che ancora rimangono. Quindi diciamo così, l'acqua che si fa fluire dal basso serve anche non solo a scompattare ma a portare via pure i soliti sospesi che si sono fermati in alto. Diciamo che se si vuole andare a fare un impianto più completo che permetta una maggiore economicità nella sua gestione l'impianto completo di scambio ionico è fatto in questa maniera. prima ci sta una resina cationica dentro, poi l'acqua che esce da qua viene mandata in una colonna dove c'è una resina cationica forte, poi qui c'è una torre di degasaggio, tra poco vi faccio vedere che cos'è la torre di degasaggio. poi qui c'è una resina, in quest'altra colonna c'è una resina anionica di bole, e poi c'è una resina, in quest'altra colonna esce la corde mineralizzata. Allora, vediamo un pochettino come funziona questo impianto Allora l'acqua che entra nella nella colonna dove è contenuta la resina cationica debole, ha un pH diciamo così che è prossimo alla neutralità quindi in queste condizioni qui abbiamo che la resina cationica debole funziona quindi praticamente si verificano le reazioni di stampo ionico del ritorino e questa resina cationica debole è in grado diciamo così di abbattere il grosso dei cationi presenti nell'acqua bene, quando poi il pH dell'acqua comincia a diventare decisamente acido cioè a mano a mano che i cationi vengono Na+, Ca+, Ca2+, K+, Mg2+, vengono rimossi dall'acqua il pH dell'acqua si va a mano a mano abbassando e la concentrazione degli ioni H+, si va a mano a mano alzando a un certo punto queste reazioni di scambio ionico vengono inibite dall'aumentata concentrazione degli ioni H+, quindi non tutti gli ioni presenti nell'acqua vengono rimossi non tutti gli ioni positivi presenti nell'acqua vengono rimossi dall'acqua stessa diciamo che l'acqua che uscirà diciamo così dalla prima colonna sarà diciamo non troppo acida sarà acida ma non troppo poi praticamente facciamo passare quest'acqua nella colonna contenente la resina cationica forte adesso l'acqua che viene alimentata questa resina cationica forte è un'acqua acida però non ci sono problemi perché la resina cationica forte è in grado di funzionare anche se l'ambiente è acido qual è il vantaggio di avere due colonne? è che il grosso diciamo così il 90% dei cationi che sono presenti nell'acqua vengono abbattuti dalla resina cationica debole e il 10% dei cationi viene abbattuto dalla resina cationica forte il vantaggio qual è? che praticamente la resina cationica debole si esaurirà più rapidamente della resina cationica forte ma la sua rigenerazione è molto più semplice è chiaro se noi avessimo tenuto diciamo così la resina cationica forte soltanto senza la resina cationica debole avremmo dovuto che vi posso dire per un certo quantitativo di altri l'acqua rigenerare 10 volte la resina cationica forte se invece teniamo la resina cationica debole prima e la resina cationica forte dopo noi rigeneriamo 9 volte la resina cationica debole e una volta la resina cationica forte è chiaro? quindi si ha questo grosso vantaggio ma guardate qui cos'è questa torre di degasaggio? la torre di degasaggio serve essenzialmente a liberare l'acqua dalla nitride carbonica dunque le torri di degasaggio ripeto vengono utilizzate anche quando è necessario andarsi a liberare della nitride carbonica dell'acqua perché per esempio in molte applicazioni bisogna andare a rimuovere i gas che sono risciolti nelle acque stesse vi ho sempre detto che la nitride carbonica è presente in misura abbastanza marcata nelle acque anzi vi ho detto che generalmente tutte quante le acque naturali risultano essere sovrassature rispetto alla quantità di nitride carbonica che secondo la legge di Henry si dovrebbe sciogliere nelle acque alla pressione parziale a cui la nitride carbonica è presente nell'atmosfera per il motivo molto semplice che la nitride carbonica presente nelle acque deriva dalla decomposizione degli organismi viventi cioè il prodotto finale della decomposizione degli organismi viventi e della decomposizione delle sostanze che sono legate al metabolismo degli organismi viventi sia di natura vegetale sia di natura animale sono acqua e anidride carbonica per cui praticamente noi abbiamo una continua fonte di anidride carbonica cioè l'anidride carbonica anche se si libera via dalle acque viene continuamente sempre prodotta allora diciamo molto spesso è necessario far liberare questa anidride carbonica che è presente nell'acqua e riportarla al valore che gli sarebbe concesso dalla legge di Henry come si fa? si fa praticamente in queste torri di decasaggio che sono costituite praticamente da dei recipienti cilindrici dove si mettono praticamente i soliti materiali da riempimento quindi materiali di riempimento che cosa intendo dire? intendo dire pezzi di legno intendo dire pezzi di vetro su cui l'acqua viene fatta gocciolare diciamo così a goccia a goccia in modo che si faccia un velo sulla superficie di questi materiali di riempimento dal basso viene insufflata dell'aria noi che cosa abbiamo? abbiamo praticamente che moltiplicando di tantissimo la superficie di contatto tra la fase aeree dei formi aria contenente aria e l'acqua noi praticamente riportiamo il valore della concentrazione dell'antidride carbonica presente nell'acqua al valore permesso dalla legge di Henry va bene? quindi ci liberiamo di tutto quanto all'antidride carbonica adesso guardate un pochettino noi abbiamo visto praticamente che la concentrazione di tutti quanti i cationi sodio, potassio, cauccio, magnesio, alluminio, ferro 2, ferro 3, manganese presenti nelle acque è stata tutta quanta sostituita da ioni H+, questi ioni H+, la prima cosa che faranno quando sono presenti nell'acqua è quella di andare a reagire con gli ioni idrogeno carbonato che sono presenti nelle acque diciamo che nelle acque luci generalmente il catione che ha l'anione che ha la concentrazione più alta è sempre l'ione idrogeno carbonato adesso se l'acqua è diventata acida reagisce con questa base HCO3-1 per dare origine a H2O più CO2 aclosano quindi la concentrazione di anidride carbonica sarà particolarmente alta non solo perché l'anidride carbonica era originariamente già presente nell'acqua ma anche perché nel corso di questo scambio ionico dei cationi da parte degli ioni Hp si è prodotta nell'altra nitride carbonica per effetto della reazione degli ioni Hp con gli ioni idrogeno carbonato però ci sta anche un vantaggio io tramite questa reazione qui mi riesco a liberare di quasi tutto l'ione idrogeno carbonato che è presente nell'acqua quindi poiché ripeto spesso nelle acque dolci l'anione che ha la concentrazione più alta è proprio l'ione idrogeno carbonato noi riusciamo diciamo così in questa maniera a liberarci di una grossa parte degli anioni poi il resto degli anioni dove vengono rimossi vengono rimossi nella colonna in cui è tenuta la resina anionica debole e poi poiché a un certo punto diciamo il pH comincia a diventare più prossimo alla neutralità per toglierci l'ultima traccia degli anioni presenti in soluzione diciamo così vengono l'ultima traccia di anioni presenti in soluzione viene rimossa in una resina contenente praticamente soltanto della resina anionica in effetti all'uscita del letto dove è contenuta la resina anionica debole l'unico anione che effettivamente è rimasto è soltanto un ione triidrogenosilitato H3S di O4 o meno diciamo che se ci sta una torre di deca saggio si potrebbe anche utilizzare una sola di queste due torre di queste due sole queste colonne qui o soltanto quella là contenente la resina anionica debole che ha una rigenerazione più semplice ma che non è capace di andarne a togliere questo ione di trinidrogenosilicato oppure soltanto una resina anionica forte che mi toglie tutti quanti di io ma che questo non lo riesce a togliere va bene un'ultima cosetta vi volevo dire diciamo che ci possono esistere a volte per esempio nei laboratori chimici degli impianti molto molto semplici per la demineralizzazione delle acque questi impianti come sono fatti sono una colonna che è generalmente stretta e lunga in questa colonna sono tenuti mescolati tra di loro granelli di resina anionica forte e granelli di resina anionica debole quando l'acqua entra da qua scambia contemporaneamente gli ioni positivi Mg2+, Ca2+, Na+, K+, con gli ioni H+, della resina anionica forte e praticamente gli ioni SO4-2 HCO3- Cl- con la resina anionica debole e da qui esce un'acqua completamente debole generalmente questi aggeggini da laboratorio per farti capire quando è che la resina funziona ancora sono equipaggiati con una lampadina questa lampadina riceve la corrente che passa attraverso l'acqua che viene demineralizzata se l'acqua è completamente demineralizzata la conducibilità elettrica dell'acqua diventa bassissima e quindi la lampadina non riesce ad accendersi quando la resina comincia ad esaurirsi gli ioni entrano dall'alto escono dal basso e quindi la conducibilità elettrica dell'acqua aumenta aumentando la conducibilità elettrica dell'acqua la corrente che arriva alla lampadina è superiore e quindi la lampadina comincia ad accendersi quando uno vede la lampadina che si comincia ad accendere dice vabbè la resina si è esaurita bisogna andare a rigenerare la resina il problema è un pochino la rigenerazione diciamo così di questa resina perché praticamente qui stanno mischiati perfettamente granelli di resina cationica debole e granelli di resina cationica forte io per rigenerare la resina cationica debole la resina cationica forte ho bisogno dell'HCl e per rigenerare la resina anionica forte ho bisogno dell'NaOH e chiaramente non li posso far andare prima uno e poi l'altro perché diciamo così quello che viene rigenerato per secondo viene rigenerato quello che viene rigenerato per primo poi non viene più rigenerato allora che cosa si fa? praticamente si sfrutta il fatto si devono separare i grani di resina cationica debole dei grani di resina cationica forte e si sfrutta il fatto che la resina cationica scusate la resina cationica forte è un po' più pesante della resina cationica della resina anionica forte quindi se io li faccio sedimentare in acqua andranno a fondo se io li faccio sedimentare in acqua in una tubazione vedete qua ci sta dell'acqua butto questi grani qua dentro quelli di resina cationica forte sono più pesanti vanno a fondo prima e si stratificheranno verso il basso quelli di resina anionica forte sono più leggeri e si stratificano verso l'alto dopo che li ho separati che cosa faccio? rigenero prima la resina anionica forte con la soluzione DNA o anche dopo che ho fatto passare l'NA o H la resina anionica forte è rigenerata in forma R o H e la resina cationica è completamente in forma sodica R o H va bene? successivamente devo rigenerare soltanto la resina cationica forte io faccio entrare la soluzione acquosa concentrata di acido polidrico a partire dal livello in cui comincia ad esserci la resina cationica forte in questa maniera io da qui ci tolgo NA e ci vado a mettere poi dopo le vado a rimescolare un'altra volta e posso diciamo così far ripartire il sistema va bene? dunque per terminare questa lezione vi vorrei dire giusto due parole se è necessario andare a rimuovere l'ossigeno dall'acqua perché spesso diciamo così per le acque industriali è necessario andare a rimuovere l'ossigeno perché l'ossigeno dà problemi di corrosione l'ossigeno è un gas fortemente ossidante perché visto che ha una grandissima tendenza a ridursi cioè a reagire a strappare elettroni a qualcuno i metalli che facilmente cedono i loro elettroni tendono ad ossidarsi e l'ossigeno tende a ridursi allora per evitare problemi di corrosione è buona norma andare a deossigenare l'acqua che viene alimentata in queste caldani l'eliminazione dell'ossigeno dalle acque però non si può fare come una torre di degasaggio come si chiama l'anidride carbonica perché se io faccio passare l'aria dal basso io lascio una concentrazione di ossigeno nell'acqua che è pari praticamente a quella permessa dalla legge di Henry ma quella è proprio quella là che io voglio eliminare allora mi restano soltanto due possibilità per la deossigenazione dell'acqua una è la via fisica la via fisica quale sarebbe? se io porto l'acqua a una temperatura prossima a quella lì di ebollizione l'acqua praticamente alla temperatura di ebollizione della solubilità dei gas nei liquidi è praticamente nulla allora cosa posso fare? diciamo che portare l'acqua all'ebollizione a pressione ambiente non ci conviene perché il calore latente di evaporazione dell'acqua è molto elevato quindi il costo sarebbe molto elevato allora quello che ci conviene fare è andare ad abbassare la pressione abbassando la pressione si abbassa la temperatura di ebollizione perché ovviamente spero che ricorderete che la temperatura di ebollizione è la temperatura alla quale la tensione di vapore del liquido e guaglia la pressione sovra incombente se io la pressione da un'atmosfera la faccio diventare un centesimo di atmosfera 0,01 atmosfera quell'acqua bollirà a una temperatura molto molto più bassa basta che riscaldo un po' e arrivo subito all'ebollizione chiaramente però diciamo così che questo tipo di trattamento si può realizzare quando io non voglio perdere il calore che ho ceduto all'acqua quindi se è un'acqua che utilizzo praticamente per produrre del vapore io quel calore che ho utilizzato per riscaldare l'acqua sarà un calore che io dopo mi ritrovo quando devo andare a produrre del vapore se invece è un'acqua che dopo non devo utilizzare per produrre del vapore allora mi conviene la via chimica la via chimica che cosa significa? significa aggiungere all'acqua un qualche cosa che reagisca rapidamente con l'ossigeno e porti a zero la sua concentrazione dunque i reagenti che vengono utilizzati per portare la concentrazione dell'ossigeno a valori molto molto bassi sono o il solfito di sodio Na2SO3 più un mezzo di O2 reagisce con l'ossigeno per dare origine a Na2SO4 oppure viene utilizzata l'idrazina l'idrazina che è un composto che ha formula N2H4 e anch'esso reagisce con l'ossigeno risciolto nell'acqua per dare origine a acqua e azoto qui ce ne sono due, qui ce ne sono quattro qui ce ne devono essere due e quattro quindi praticamente vi ripeto se è necessario andare a deossigenare quest'acqua diciamo la via più semplice sarà quella fisica ma è praticabile da un punto di vista economico soltanto se il calore che noi andiamo a cedere all'acqua è il calore che viene recuperato perché noi intendiamo produrre del vapore ovviamente sarà sempre conveniente andare ad abbassare la pressione dell'acqua perché abbassando la pressione dell'acqua si abbassa anche la sua temperatura se invece quest'acqua non è destinata alla produzione di vapore in acqua allora per la deossigenazione è più conveniente la via chimica cioè aggiungere all'acqua qualche specie chimica che abbia una grossa tendenza a combinarsi con l'ossigeno e diciamo così a diminuire la sua concentrazione ovviamente un'acqua dopo che è stata deossigenata se si vuole che la concentrazione dell'ossigeno resti uguale a zero deve essere inibito il contatto con l'atmosfera cioè se io praticamente aggiungo il solfito di sodio all'acqua mi consuma tutto l'ossigeno che è sciolto nell'acqua però lascio quell'acqua esposta all'atmosfera quello scioglie dell'altro ossigeno mi fa reagire dell'altro solfito si scioglie dell'altro ossigeno reagisce dell'altro solfito fino a quando non finisce tutto il solfito e alla fine l'ossigeno torna dall'ettuale a quello di prima quindi una volta che l'acqua è stata deossigenata bisogna anche inibire il contatto dell'acqua con l'atmosfera ragazzi io avrei finito domani c'è l'ultima lezione di esercitazione quello che vi volevo dire vi ripeto per lo scritto ci sono ho fissato delle date per quanto riguarda l'orale potete venire in qualunque giorno diciamo qualunque giorno mi mandate un messaggio ve l'ho detto e mi dite quando volete fare l'esame e mi date la settimana in cui volete fare l'esame lo voglio fare tra il 15 e il 20 e io vi rispondo viene il 17 all'ore 10 viene il 18 all'ore 15 e così via vi darò grazie a tutti grazie a tutti